Eravamo preparati a qualsiasi evento catastrofico naturale, ma non a questa pandemia. Basta questa affermazione del coordinatore della protezione civile di Pavia, Andrea Salvini, per spiegare cosa sia stata la prima ondata del coronavirus nel capoluogo. Banalmente sì, perché sui disastri idrogeologici, la piena, piuttosto che un terremoto, ci sono tanti manuali. Per quanto riguarda la pandemia, alla fine non eravamo preparati, nessuno si aspettava una cosa del genere. E quindi abbiamo iniziato dal 21 di febbraio, mi ricordo che era carnevale, a iniziare a parlare seriamente di questo virus e di tutta questa situazione, dalle prime determine, delibere, di PCM, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a oggi. Fino ad oggi, una seconda ondata che non ha trovato infatti impreparata la protezione civile. L'esperienza ha scosso, ma anche insegnato, e la macchina degli aiuti, silenziosa ma sempre attiva nel periodo estivo, ha ripreso a pieni giri. Dalla fine di ottobre, con la consegna a domicilio di cibo e medicinali alle persone in quarantena, mentre dalle scorse ore agli over 70, soli e senza aiuti, dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno. Siamo ritornati a occuparci del centralino del centro operativo comunale per rispondere alle esigenze dei cittadini ultra settantenni, senza rete familiare, senza avere familiari che possano dare una mano, senza avere una rete di amici che lo aiutano e persone che purtroppo sono state a contatto col virus, sono in quarantena o sono chiuse in casa in attesa di tampone, eccetera, che ovviamente non possono uscire. Ci sono anche delle necessità legate ai pacchi alimentari, ad esempio i pacchi di sostegno, magari a quelle persone che in questo momento non sono nel circuito di servizi sociali, nel circuito della Caritas perché probabilmente sono in difficoltà contingenti causate proprio dalla situazione di pandemia e di chiusura e che quindi hanno bisogno di usufruire di banalmente pacchi alimentari di sostegno e di supporto alla propria famiglia e che probabilmente avrebbero difficoltà ad ottenerli in maniera alternativa. Per quanto riguarda la città di Pavia, adesso stiamo dando una mano con il coordinamento della protezione civile provinciale, quindi insieme anche ad altri colleghi e gruppi della zona, per i vaccini anti-influenzali su Pavia che ATS ha messo in campo al Santa Margherita.